Cos'è il disturbo ossessivo compulsivo puro? Il disturbo ossessivo compulsivo puro o il disturbo ossessivo compulsivo puramente ossessivo è un sottotipo di disturbo ossessivo compulsivo. Come tutti i tipi di disturbo ossessivo compulsivo, ha componenti dell'ossessione pensare a cose al di là di ciò che è ragionevole e costrizione. L'aspetto compulsivo del disturbo ossessivo compulsivo puramente ossessivo è spesso mancato perché le persone con questa condizione sono costrette a pensare, ricercare o immaginare in modo compulsivo oltre a trattare pensieri ripetuti e inquiettanti. In altre parole, la compulsione è spesso cognitiva invece di una serie di comportamenti osservabili e insoliti come il lavaggio delle mani ossessivo. A volte questo tipo di disturbo ossessivo compulsivo sembra una preoccupazione estrema o un disturbo d'ansia generalizzato, e persino i clinici esperti hanno perso la diagnosi appropriata all'inizio. Ci sono molti temi ossessivi che potrebbero essere al centro di qualcuno con puro disturbo ossessivo compulsivo. Una persona interessata potrebbe costantemente verificare lo stato di una relazione. Potrebbe passare ora a preoccuparsi se è innamorato, e se è amato, e chiede repetutamente se la relazione sia appropriata o utile. Altre volte le persone si preoccupano del loro orientamento sessuale e si chiederanno costantemente se sono eterosessuali o omosessuali. Alcuni pensieri ossessivi possono verificarsi lungo linee religiose, dove nonostante i forti sentimenti religiosi, le idee sacrileghe potrebbero costantemente intromettersi. Altre fonti di ossessione potrebbero verificarsi in una persona con disturbo ossessivo compulsivo oppure alcuni malati di questa condizione si preoccupano all'infinito che potrebbero ferirsi o ferire agli altri. Un altro tema comune è un forte senso di colpa per ciò che i sofferenti pensano siano i fallimenti. In altri casi, una persona potrebbe essere più preoccupata del fatto che svilupperà problemi di salute o condizioni mediche specifiche. Quando si verificano pensieri ossessivi, la persona con disturbo ossessivo compulsivo può passare ora giorni torturati dai pensieri, andando a uno sforzo significativo per cercare di capire e sbarazzarsi di loro. Liberare il sé da questi pensieri potrebbe prendere una varietà di forme. Le persone possono continuamente interrogarsi sulla verità di ciò che pensano, potrebbero mettere in discussione gli altri o chiedere ripetutamente il perdono, potrebbero chiedere test che provino o confutino i pensieri, più comuni con il puro disturbo ossessivo compulsivo, oppure potrebbero leggere ricerca per determinare se ciò che pensano sia plausibile. Qualcuno con un disturbo ossessivo compulsivo puro che è ossessionato dall'evitare la gravidanza potrebbe continuare a sottoporsi a test di gravidanza dopo incontri sessuali, anche se alla prova di diversi test negativi è pratico e il sesso sicuro. È facile vedere da queste descrizioni perché il disturbo ossessivo compulsivo puro non viene sempre diagnosticato immediatamente. Le persone possono sembrare eccessivamente ansiose e preoccupate, ma una terapia continuata si spera possa dimostrare che i comportamenti compulsivi sono una caratteristica della malattia. Data la giusta diagnosi, ci sono una varietà di modi per trattare questa condizione. Il puro disturbo ossessivo compulsivo spesso risponde bene alle terapie comportamentali, e alcune persone beneficiano anche dei farmaci. La terapia comportamentale è quasi sempre il primo requisito del trattamento perché attraverso di essa le persone possono imparare modi per minimizzare i modelli di pensiero negativo e la risposta compulsiva. Ciò può in definitiva portare alla libertà dalla condizione o alla riduzione pronunciata dei sintomi.